Sono cominciati questa mattina i lavori di rimozione delle due camere cocche che da oltre tre anni insistono nei pressi del porto rifugio di Gela. L'impresa che sta eseguendo l'opera è l'aggredito oleodinamica. L'autorizzazione è stata rilasciata dalla Capitaneria di Porto. C'è da dire che questo è stato un altro obiettivo che siamo riusciti a raggiungere, che l'autorità marittima è riuscita a raggiungere, in quanto appena arrivato mi ero prefissato di far smantellare in qualche modo queste camere cocche perché sono un benvenuto che effettivamente non ci sta nella nostra bella città. Per quanto riguarda lo smantellamento hanno tempo circa 40 giorni dall'emissione della mia ordinanza che è avvenuto lunedì scorso. Taglieranno le camere cocche in quattro tronconi e dopodiché le trasporteranno con dei mezzi speciali all'interno della raffineria. Subito dopo i lavori i tronconi delle due camere saranno trasportati alla raffineria via terra. Ho notato, ho visto nei giorni scorsi come tutti i gelesi che c'erano dei camion che hanno fatto dei sondaggi con dei tecnici, hanno fatto dei sondaggi, quindi la ditta che se ne sta occupando, la ditta gradito, penso che sia assolutamente all'altezza di potersi occupare di questo trasporto. Perché tre anni, dopo tre anni, alla fine arriva l'autorizzazione? Perché non si è fatto prima? Non si è fatto prima perché si è aspettato per vedere se queste camere potevano essere portate fuori via mare, ma purtroppo, come tutti ben sappiamo, il nostro porto non ce l'ha permesso, anche se fortunatamente adesso, da un momento all'altro, entro almeno qualche mese, si spera che iniziano finalmente questi lavori per il dragaggio del porto di Gela. Il comandante della Capitaneria di Porto esprime soddisfazione in merito all'accordo firmato giorni dietro a Palermo, 6 milioni di euro per il repristino funzionale del porto. I soldi fanno parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni Eni. È una cosa di cui mi sono iniziato a occupare ancora prima di arrivare a Gela. Grazie al contributo del Comitato del Porto, del Comitato dei Pescatori, del Porto di Gela, ho iniziato ancora prima di settembre a occuparmi del nostro porto interrato, perché mi piace chiamarlo Porto di Gela. Spero che al più presto possiamo ritornare a vedere qualche bella barca, qualche peschereccio, renderlo nuovamente operativo.